Stamattina mi sono alzato Mi chiamo Delia Macor, sono laureata in storia all'Università di Roma La Sapienza, specializzata in biblioteconomia presso la Scuola Vaticana. Mi occupo di studi storici dell'età contemporanea con particolare attenzione alle tematiche di genere. Lavoro a Roma presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presento il volume Luciana Viviani tra passione politica e ironia. Si tratta della biografia di Luciana Viviani che ho cercato di ricostruire attraverso le fonti archivistiche e le testimonianze dirette. Nata nel 1917, figlia del brillante commediografo napoletano Raffaele Viviani, partigiana, comunista, strenua combattente per la causa delle donne, deputata al Parlamento in quattro legislature dal 1948 al 1968. Ho scoperto la figura di Luciana quasi per caso all'indomani della morte avvenuta nel 2012, leggendo un articolo su un quotidiano. Infatti, anche se è stata una combattente e dirigente di primo piano dell'Unione Donne Italiane, non ha conosciuto la notorietà di altre donne della stessa generazione che hanno percorso un sentiero politico e civile simile al suo. Eppure la sua vita ha rappresentato una testimonianza importante nella storia del nostro paese. Nello studio della documentazione di Luciana mi hanno colpito in particolare il coraggio, la forza, la determinazione nelle scelte riguardanti sia l'ambito della vita privata sia quella pubblica, scelte tutt'altro che facili a quei tempi. In una delle sue ultime interviste dichiarò «Ci sentivamo di stare dalla parte giusta, con tanta forza, passione e convinzione che potevamo cambiare il mondo, e in parte lo abbiamo fatto». Un altro aspetto interessante della sua personalità è l'ironia. L'osservazione e l'interpretazione della realtà attraverso la lente dell'ironia. È il dire con leggerezza le verità che sono dure e amare, come affermò una volta. Con questo libro ho inteso offrire un contributo alla conoscenza e memoria di quel bagaglio di idee, entusiasmi, slanci ideali che ha contribuito alla costruzione della nostra libertà odierna. Per non dimenticare, perché, per dirla con Walter Benjamin, c'è un'intesa segreta tra le generazioni passate e la nostra. Il libro può essere ordinato nelle maggiori librerie, anche online e in formato e-book. Grazie e buona lettura. «Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà». «Questo è il fiore del partigiano...» Grazie. 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 Grazie.